Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con di prima mattina la rassegna stampa di Super J in cui andremo a sfogliare le pagine dei quotidiani Il Centro e il Messaggero in questo mercoledì 9 agosto 2023. Il buongiorno da parte mia e da parte di Maurizio Valeriani, andiamo subito dunque a sfogliare le pagine iniziando dal quotidiano Il Centro, la prima pagina dell'edizione di Teramo. Titolo di apertura, 100 sentinelle contro gli incendi, pronto il piano di comune e protezione civile per le emergenze. Nei titoli sotto la testata si parla appunto delle pagine interne del quotidiano Il Centro riferite alla regione Abruzzo, approvata la manovra da 17 milioni alla Saga, la somma più grande. Queste per quanto riguarda le decisioni del Consiglio regionale politica. Verso il voto in regione Sottanelli apre alla coalizione. A segno di inclusione, famiglie guida ai nuovi aiuti di 500 euro per ogni mese. E poi ancora la foto notizia. Marsinel e i morti di 67 anni fa, Abruzzo e Belgio uniti nel ricordo. La tragedia dei minatori commemorata alla stessa ora a Manoppello. È ricoverata all'Aquila, Messina Denaro torna in ospedale, l'avvocato basta col carcere duro in riferimento al super boss della mafia. Valle Castellana, medico aggredito nel suo studio, un denunciato, episodio che è avvenuto lo scorso lunedì. Il sindaco premia il bagnino eroe e in comio al ventenne che ha salvato una ragazza di 14 anni. Pineto, la giovane, voleva morire in mare come il papà. Altre notizie che arrivano sempre dalla costa, in particolar modo da Martinsicuro e Migliaia alla sfilata del carnevale sulla riviera. All'interno del quotidiano il centro, nell'inserto l'Aquilone, si parla di concerti. Bobbi Solo festeggia domani in Abruzzo la lunga carriera. E poi c'è lo sport anche nella prima pagina del quotidiano il centro, calcio, eccellenza. Coppa Italia, Teramo oggi in campo con Langizia. Per meglio dire, sono stati sorteggiati ieri gli accoppiamenti di Coppa Italia, quello di oggi è un test amichevole del Teramo contro Langizia-Luco. Alle 16 al Pigliacelli di Montoro e Alvomano, alle 17.30 ci sarà un amichevole, la prima in casa per il Giulianova contro il Mutignano, Alfadini alle 17.30. Dalla prima pagina del quotidiano il centro edizione di Teramo passiamo a quella di Pescara. Il titolo di apertura la regione, le naia di Riapriranno, meno tre giorni alla chiusura, ecco il piano per trovare il nuovo gestore. E ora Rancitelli si schiera con il prete coraggio, si parla di droga e degrado, notizia che arriva da Pescara. Terrorismo, Aquilano fermato, nei guai Luca Aloisi vicino all'anarchico pescarese cospito. Inchiesta nazionale tocca anche l'Abruzzo. Carnevale estivo, torna la festa a Francavilla, evento che ci sarà venerdì e anche in questo caso c'è un richiamo allo sport, calcio serie C. Pescara c'è l'idea, Gavioli mora verso la cessione. Pescara che vuole rinforzarsi dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia. 6 a 2 a Fiorenzuola contro la Reggiana. Dalla prima pagina di Pescara passiamo a quella di Chieti, Lanciano e Vasto. Il titolo di apertura voto sui gay andiamo in procura. Chieti, i civici sfidano il resto della maggioranza sul riconoscimento dei diritti. Trigano van, altre assunzioni e al Ministero della Regione partecipa al vertice per Stellantis, il settore automotive della Val di Sangro. Un marchio comunale per i prodotti tipici frentani, siamo appunto a Lanciano e a proposito di sport la prima doppietta di Ardemagni inamichevole e ci riferiamo proprio al Chieti e Tempo di Amichevoli per le squadre di Serie D che sono ancora però in attesa di conoscere gironi e calendario del campionato che ad oggi dovrebbe ancora iniziare il prossimo 3 settembre. Poi però ci sono, ricordiamolo sempre, le decisioni del Consiglio di Stato che interessano la B e poi a Cascata ovviamente anche le altre categorie. Andiamo avanti con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del quotidiano Il Centro, il titolo di apertura Terrorismo, un aquilano fermato, l'inchiesta nazionale sbarca in Abruzzo nei guai a Loisi vicino all'anarchico cospito. Addio Migliarini, ex sindacalista e politico con Italia dei Valori, L'Aquila il lutto appunto che arriva dal capoluogo di Regione. Per donanza scelti due tedofori e Torre e Derubeis porteranno la fiaccola al sindaco Pierluigi Biondi verso l'accensione del Tripode della Pace. Foundry premia i dipendenti con 220 euro, siamo ad Avezzano e poi sempre per quanto riguarda la Marsica, calcio di Serie D, l'Avezzano debutta con un pari in gol Roberti nel test amichevole contro i campani del San Marzano. Questo per quel che riguarda il quotidiano Il Centro, noi ci trasferiamo al quotidiano Il Messaggero, non prima di avervi ricordato, prima abbiamo fatto un accenno ai sorteggi di Coppa Italia che ieri avete potuto vedere in diretta sulla nostra emittente, appunto si partirà il 20 agosto con ritorno il 27 per quanto riguarda le gare d'andate e ritorno, poi ci sono anche i due triangolari che avranno un turno anche il 30 agosto, percorso che porterà le squadre fino alla finalissima del 31 di gennaio con il Sambuceto, campione che giocherà contro la Vastese, mentre il Città di Teramo sarà in trasferta contro la Folgore del Fino Curi e il Giulianova sul campo del Casalbordino. Questi principali accoppiamenti con Sambuceto, Giulianova, Città di Teramo e Renato Curi Angolana che sono state designate come teste di serie. Siamo al quotidiano Il Messaggero, il titolo di apertura dell'edizione nazionale con riferimento all'Abruzzo, aiuti per fisco e caro mutui con la tassa sugli extra profitti, la dote di circa 2 miliardi destinata al taglio del cuneo e al fondo casa, le banche giù in borsa, il governo alleggerisce i parametri del prelievo. Proroga a fine anno dei lavori per le villette, Poste torna a spingere il super bonus, acquisterà i crediti dei proprietari. Rocca chiude il caso De Angelis, ci siamo chiariti, resta in regione le polemiche sulla strage di Bologna. Il ricordo di Marsinelle interviene anche il Presidente della Repubblica, Mattarella, a tenere salda la tutela dei lavoratori. Ancora per quanto riguarda le altre notizie, curiosità fino a 3 chili in più, Ferragosto salta la prova costume, prendiamo peso come a Natale, c'è questo studio all'interno del quotidiano Il Messaggero. Roma, nuovo progetto per i fori imperiali, evitato lo scempio, stop al piano che prevedeva opere moderne tra i reperti dopo la campagna proprio del quotidiano Il Messaggero. Sandra Bullock, ho perso l'uomo della mia vita, il dolore dell'attrice per la morte del compagno Brian Randall. L'assalto ai voli negli scali l'incubo dell'overbooking, come è difendersi? Sono guide all'interno appunto per ovviare a questo problema in tema di vacanze, soprattutto in tempo di vacanze e potrebbe diventare un problema importante. Banche giù in borsa, siamo all'interno delle pagine Il Quotidiano il Messaggero edizione nazionale, alleggerita la tassa sugli extraprofitti, il settore perde a piazza affari 9 miliardi di capitalizzazione, franchigie più alte, si riduce l'impatto sui conti delle società. Cambiato il parametro di riferimento, il contributo non potrà superare la soglia dello 0,1% dell'attivo totale. Reazione fredda dei banchieri dopo le rassicurazioni che erano arrivate negli ultimi mesi dal Tesoro. Il MEF, impatto limitato per gli istituti che hanno alzato i tassi sui depositi, il ministro Giorgetti aveva chiesto al sistema bancario di elevare gli interessi sui conti correnti. Gli istituti di credito nel primo semestre del 2023 hanno realizzato un aumento dei profitti del 62%. Dote intorno a 2 miliardi per aiuti su fisco e mutuo, il gettito finanzierà il fondo di garanzia per l'acquisto dell'abitazione principale. Sul fronte tasse resta più probabile l'intervento sul cuneo contributivo. Si tratta di un prelievo una tantum, i soldi nel bilancio dello Stato affluiranno il prossimo anno. Gli controiti si aggiungeranno alle risorse che l'esecutivo sta preparando in vista della manovra. Gli economisti concordano, bene sostenere i giovani la norma si può migliorare. Il docente sarebbe opportuno destinare le risorse per agevolare prima di tutto gli under 36, questi i pareri. Ancora con le pagine interne, il codiano il messaggero, la lega con Giorgetti e la strada giusta, la prudenza invece dei forzisti. Carroccio difende l'imposta sui profitti extra, aiuteremo famiglie e imprese. Barelli invece di Forza Italia, possibili emendamenti, ma le banche facciano la loro parte. Forza Italia in difesa di Mediolanum approfondiremo la legge in aula. Assiste di Meloni a Salvini per la tregua elettorale, mesi di riflessioni sul provvedimento, poi il via libera del Premier e Giorgetti. Annuncio lasciato al capitano leghista che si intesta una misura a chiappa voti. Le opposizioni spiazzate era una nostra battaglia, linea comune sul salario, queste le varie reazioni. E poi ancora Lazio, De Angelis resta e anche dal governo prime voci in sua difesa. Parliamo del Regione Lazio, quella mozione appunto in Regione approvata dalla sinistra che criticava la sentenza. Marsinella, Tajani in Belgio. Mattarella, tenere salda la tutela di tutti i lavoratori. C'è stato l'anniversario, intervenuto anche il Premier Meloni. Persero la vita nel buio della miniera, ma la loro luce non si è mai spenta. Il pacchetto sicurezza, espulsioni rapide e più agenti in strada. In arrivo da settembre una stretta per i soggetti più pericolosi e violenti. Dal caso di Rovereto alle baby gang, il governo studia provvedimenti ad hoc. Tra gli interventi in programma e il potenziamento dei vigili urbani, faro sui creati dei più giovani. Il sottosegretario Molteni, rimpatri immediati per i facinorosi video sorveglianza nelle città. E poi ancora il ritorno di Marta Fascina nella partita per Berlusconi. L'amichevole Monza-Milan è andata in onda ieri sera. Ancora Roma cambia il progetto, cancellati gli interventi che deturpavano i fori. Stop al piano che prevedeva opere moderne tra i reperti dopo la campagna del messaggero. In un vertice San Giuliano-Gualtieri, l'intesa sulle modifiche, eliminato anche l'Acheo-Tram. Dalle pagine interne di edizione nazionale del quotidiano Il Messaggero ci trasferiamo a quelle che fanno riferimento all'Abruzzo, alle notizie specifiche della nostra regione con il titolo di apertura che riguarda il caso che arriva dall'Aquila. Messina, denaro operato, è gravissimo. L'avvocato tumore al quarto stadio, condizioni disperate. Ancora per quanto riguarda la prognosi, intervento riuscito, ora tre giorni in terapia intensiva. Salvatore, ospedale blindato, corridoi chiusi ai reparti off limits. Turismo, presenze in calo, molti abruzzesi, Spagna e Grecia, una famiglia su due resta a casa per il caro vacanze, spaventano i prezzi di locali, ristoranti e hotel. Il supercaldo non ha rilanciato il settore. La notizia appunto che arriva da Teramo e fa riferimento all'episodio di qualche giorno fa, infastidiscono medico, poi lo prendono a Pugni. Aggredito e ferito, Maurizio Doroni, medico responsabile dei servizi di guardia medica a Valle Castellana. La fotonotizia, parcheggiatore abusivo e vandalo danneggia l'auto della donna che non gli dà i soldi. Episodio che arriva da Pescara. D'Alessio, col botte alla fine del concerto, identificato l'aggressore, adesso potrebbe avere conseguenze penali, pioggia di accuse anche sui social all'organizzazione. Imprese in gara, le migliori start-up, iniziativa della CNA a livello nazionale, iscrizioni al Via. Ancora per quanto riguarda le altre notizie che arrivano da Codiano di Messaggero, che troviamo sotto la testata, gli eventi giorno e notte, suggestioni after hours, Manuel Agnelli al Marina. All'Aquila, fuoco del Morrone, la fiaccola partirà il 16 agosto. Ecco il percorso per quanto riguarda lo sport e calcio di Serie C. Pescara, San Nipoli in dubbio, spunta la pista per Lombardi. Un po' quello che dicevamo prima, Pescara che è all'opera per rinforzare la rosa a disposizione di mister Zeman. Le pagine interne del quotidiano il messaggero edizione Abruzzo. L'estate è difficile, turismo aumenta il calo, la vacanza diventa low cost, grimi di asso turismo. Nel resto d'Italia la situazione è peggiore. Meno spese e meno divertimenti, l'Abruzzo regge comunque il colpo. Effetto Napoli, l'altosangro incontro tendenza per l'invasione dei tifosi partenopei. La norma elettorale non cambia, sospiri ormai è troppo tardi. La modifica sarà approvata entro la fine della legislatura via libera al bilancio. Fine vita avviato l'iter della legge. Passiamo alle pagine che riguardano le singole province. Partiamo da Pescara, addio ristorante Panini in spiaggia. Il caro vacanze costringe i turisti a limitare le spese per stabilimenti, pizzerie, locali e bar è una tegola. Riccardo Padovano, il litorale è pieno di bagnanti ma si tratta soprattutto di pescaresi e altri abruzzesi. Regge meglio la zona di Montesilvano per la presenza dei grandi hotel e più servizi. Grande attesa per Ferragosto, saranno i giorni che decideranno il bilancio dell'intera stagione. ritorna l'arte negli spazi pubblici, tra le location c'è il teatro Michetti. Riapre lo storico edificio da poco restaurato, il festival dal 28 ottobre al 31 dicembre. E poi una notizia che abbiamo visto anche in precedenza, con l'impianto delle NAIAD interviene il governatore Marsiglio, l'impianto riaprirà. Questo per quanto riguarda le piscine nello specifico. Niente soldi per la sosta, parcheggiatore abusivo le danneggia la vettura. L'uomo l'ha anche minacciata, arrestato per tentata estorsione e un clochard italiano che viva alla stazione usava un accendino. Altri casi in passato nelle aree di risulta dove è avvenuto l'episodio. Con la polizia vediamo nella foto anche che presidia il terminal degli autobus. Allarme tifone in Corea, nel paese scout abruzzesi. 18 ragazzi trasferiti in strutture sicure. Locali, controlli sui decibel, la categoria così non va. Come ogni estate c'è questo problema sui decibel e sul rumore, sulle varie musica e gli orari da rispettare. Gli eventi, Manuel Agnelli, suggestioni e grande musica, leader degli after hours sul palco del Marina per il Willow Fest. San Lorenzo Aspoltore con note sotto le stelle. Poi ancora premio Dean Martin. Tanti sono stati i riconoscimenti. Dalla pagina di Pescara a quella dell'Aquila. E in condizioni disperate il boss ricoverato e operato. Il trasferimento di Messina Denara del carcere sotto la massima scorta. San Salvatore blindato. Intervento riuscito e dovrà trascorrere tre giorni in terapia intensiva. Interviene l'avvocato incompatibile con il regime del 41 bis. Terrorismo. Un aquilano indagato nel Maxi Blitz. Nove ordinanze della Procura di Genova contro gli anarchici. Perquisizioni anche in città. E poi ancora il lutto che ha colpito appunto il capoluogo di regione. Struncato da un male a 62 anni. Il sindacalista Franco Migliarini. Un'anime cordoglio e vicinanza alla compagna. La consigliera comunale straniera. In tre mesi 250 pazienti nella nuova holding area. Si torna a parlare del pronto soccorso dell'Aquila. 40 anni di perdonanza moderna dall'ex sindaco Don Tullio De Rubeis. Al nipote che porta lo stesso nome. Una lunga storia di fede e tradizione. Dal fuoco del morrone all'odierno cammino del perdono. La presentazione di Florio Panti e del vice sindaco Raffaele Daniele. Biglietti al via da domani. Ecco tutte le informazioni proprio per quanto riguarda la perdonanza moderna. La fontana di Calabritto ai rituali di Ferragosto. Siamo nell'Interland Aquilano a Cagnano Amiterno e poi invece a Santo Stefano di Sessagno. Primo concerto sotto la torre. Il dibattito sul Gran Sasso. Quel piano regolatore del 35 per lo sviluppo turistico. Siamo sempre nella pagina dedicata all'Aquila ma nella cosiddetta provincia. Nell'Interland, nella Marsica soprattutto. Spacciava dai domiciliari sequestrato fiume di coca. Mohamed Najim, trentenne, gestiva fiorente traffico di droga. Blitz mirato della polizia. I sospetti dei residenti e un'azione fulminea portano alla luce grosso giro di stupefacenti. Questo per quanto riguarda notizia che arriva da Avezzano. A Celano invece fototrappole in azione fioccano le multe per abbandono dei rifiuti. Tribunale. Il sindaco di Pangrazio rilancia l'allarme. Siamo sempre ad Avezzano. A Scanno invece le ultime regine con l'abito tipico. E a Pacentro, Corsa degli Zingari, trionfa il docufilm. Pagina di Chieti. Cimitero. Maggioranza divisa sullo stop all'emergenza loculi. Ieri in commissione approvata la modifica del regolamento senza Partito Democratico sinistra e Movimento 5 Stelle. La Presidente Pompiglio. Non accettano proposte di altri. No ai difunti discriminati. Asl. Ufficiale. Sono 152 gli operatori che verranno assunti negli ospedali. Trigano Van. Crescerà. Previsti altri posti di lavoro. Lo stabilimento di Paglieta. Di Sesto. Scuola. Vicentini della Porta. Ecco i fondi. Parco Maiella. Grotte del Cavallone. riaperte al pubblico. Central Park interviene il Partito Democratico. Siamo a Lanciano. Più verde e capiente. La richiesta di nuovi investimenti a comune e regione dopo il successo di pubblico registrato dai concerti e show. In vista della manifestazione Clu del Mastro giurato la Commissione autorizzerà ben 1863 posti in gradinata. Dall'assessore Tonia Paolucci arriva anche l'invito a fare i conti con i costi da sostenere. Comune e Asl. Borse lavoro per i fragili. Siamo sempre a Lanciano. Mentre quest'altra notizia arriva da Vasto. Vigili niente accordo. Notterosa nel caos. Ieri sera assemblea sindacale in concomitanza con l'evento con il sindaco Menna. Modo errato di fare sindacato. Chiuso il punto. Primo intervento. Chieffo denuncia azienda sanitaria a Gissi. Mentre per quanto riguarda Ortona Lido Saraceni. Captazione delle acque. L'amministrazione dà parere negativo. Le pagine dedicate a Teramo e alla sua provincia. Ferragosto in Spagna e Grecia. Sole, mare e selfie da postare. Meteambite pure Giappone e Stati Uniti ma incide il carovoli. Tengono le crociere. Tanti restano a casa per motivi economici. Ma chi può stacca almeno una settimana. Interviene Luigi d'Eramo perché sono arrivati i fondi per la chiesa di San Domenico. Incendi per un mese e pattuglie sul territorio. Fino al 10 settembre controllate anche le frazioni. In caso di avvistamenti intervengono i vigili del fuoco. Cecilia e Natale. Le due tartarughe curate oggi tornano in mare. E siamo a Pineto. Liste d'attesa. Esami diagnostici rimandati al 2024. Tavolo di confronto tra asle e sindacati. Sui lunghi tempi per visite e prestazioni. Tutte le criticità. Basta ragazzi, date fastidio. Medico preso a calci e pugni. Maurizio Doroni, 66 anni, aggredito a Valle Castellana. Denunciato un ventenne. Il dottore ha riportato diverse fratture e un occhio nero. Immediate le indagini. Svolge il ruolo di responsabile di guardia medica. Il presidente Camillo D'Angelo tra i testimoni. Presidente della provincia. Solidarietà e impegno delle istituzioni. Brucchi, ora la zona resta sguarnita. Appunto dopo questo episodio. E queste sono le reazioni. Intervista con Ivan Costantini. Io contro Pietro Quaresimale. Ma forse vinciamo tutti e due. Queste le principali parole dell'intervista rilasciata da Ivan Costantini e il collega Francesco Marcozzi. Ferrovia e Bypass. Mastromauro e Forcellese. Danni per Giulianova. Questo è il pensiero dell'ex sindaco di Giulianova e di Archimede Forcellese. Siamo alle pagine dedicate allo sport. Per quel che riguarda il quotidiano Il Messaggero. Iniziamo con il calcio di Serie C. Pescara-Lombardi piace alla società. Il centrocampo necessita almeno di un giocatore di fisico e qualità. Sulla pista San Nipoli. Adesso spunta anche il Cittadella che ha offerto di più. Il classe 2000 invece sta per svincolarsi dalla regina. Doppio colpo solo però con l'addio di Mora. A Cornero e da gasso le nuove scommesse di Zenec Zeman. Sono felicissimo per il primo gol in biancazzurro. Ora devo lavorare e fare ciò che chiede l'allenatore. Queste le parole di Federico A Cornero. E poi ancora l'Italia in apprezzione per Marco Riccioni. Il giocatore terramano di rugby. Qualche settimana è torno a cavallo. Il pilone è uscito per infortunio contro l'Irlanda. Senza rischio non è divertente. Isweb preso Carones. Ancora un infortunio per Marco Riccioni. Ovviamente in bocca al lupo di pronta guarigione al pilone terramano. Chieti torneo super equilibrato. Siamo al basket in questo caso. Il coach Agnello sicuramente siamo convinti di poter essere competitivi. Campionato livellato verso l'alto. Nelle prossime settimane dovrebbe annunciare il nuovo main sponsor. Ma non esclusa la riconferma di Mocambo o Lux. Per quanto riguarda il volley. Pescara ha colto il ricorso. La Beach World va in A2. Patron De Collibus finalmente possiamo pensare a chiudere i contratti delle giocatrici da tempo. sulla scrivania. Il calcio. Prima serie D. E poi eccellenza. La D. Chieti ne fa 6 nel derby. Ok. Ardemagni e Mancini. Forgione. Il mister ci ha chiesto di aumentare la nostra aggressività con il Chieti che ha affrontato il Città di Chieti. Formazione che merita in seconda categoria. Eccellenza. Coppa Italia. Il Teramo parte fuori contro la Folgore del Fino Curi. Si comincia il 20 agosto. Il Giulianova a Casalbordino. Sabato amichevole con il Varano. Oggi invece alle 16. Amichevole contro il Langizia Luco. Formazione di promozione Girone A. Ricordiamolo dalle 16. Diretta proprio sulla nostra emittente di questo test amichevole. Alleamento congiunto tra le due formazioni. Proposito amichevole. Oggi scenderà in campo contro anche il Giulianova. Alle 17.30 al Fadini contro il Mutignano. Giulianova appunto ecco Bittaglie. Oggi test con il Mutignano. L'esterno proveniente dal Lavezzano è sempre stato in serie. Di andrà a rinforzare l'organico del Giulianova. Soprattutto dopo l'infortunio dell'altro neoacquisto Prestia. Con questa notizia si chiude questa edizione di prima mattina. La rassegna stampa di Super J. In cui abbiamo sfogliato i quotidiani, il centro e il messaggero. Ringrazio Maurizio Valeriani in regia. Ovviamente vi do appuntamento ai nostri spazi informativi alle 14. E alle 19. e questa sera torna l'appuntamento anche con Pallone sotto l'ombrellone con Angelo Tulli e i suoi ospiti da non perdere per venire a conoscenza anche delle ultime operazioni di mercato delle varie formazioni a pochi giorni dall'inizio della stagione ufficiale. Grazie a voi tutti. Ovviamente di prima mattina torna domattina puntuale alle ore 7. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.